C'era una volta un povero taglialegna che viveva nella miseria più nera. Abitava in una piccola casa in mezzo alla foresta insieme ai suoi due figli, Ansel e Gretel. La sua seconda moglie maltrattava spesso i due bambini e continuava a ripetere al marito, in questa casa il cibo non basta per tutti, ci sono troppe bocche da sfamare, dovremmo liberarci dei due marmocchi, e cercava continuamente di convincerla ad abbandonare i due figli nella foresta. Gli diceva, dovresti lasciargli lontano da casa, in modo che non trovino più la strada del ritorno, qualcuno potrebbe trovarli e sfamarli al posto nostro. Il pover uomo, avvillito e tormentato, non sapeva più cosa fare. Ansel, che una sera aveva sentito i discorsi della matrigna, consolò la sorellina Gretel, non preoccuparti, riusciremo a ritrovare la strada di casa, anche se ci lasceranno soli nella foresta. Uscito di casa di nascosto, si riempì le tasche di sassolini bianchi e poi tornò dentro a dormire. Quella notte la moglie continuò a insistere più delle altre volte perché il taglialegna abbandonasse i figli, finché all'alba i tre partirono verso il bosco. Ma mentre si inoltravano tra gli alberi, Ansel ogni tanto lasciava cadere dietro di sé un sassolino bianco che risaltava sul suolo della foresta. A un certo punto i due ragazzi si trovarono soli. Il padre, costretto dalla perfidia della matrigna, aveva trovato l'insano coraggio di abbandonarli e con una scusa si era allontanato. Scese la notte e il taglialegna non era ancora tornato a riprendere i suoi figli. Gretel piangeva disperata e anche Ansel era spaventato, ma cercava di non darlo vedere e rincuorava la sorella come poteva. Non piangere, sorellina, fidati di me. Ti prometto che ti riporterò a casa anche se nostro padre non torna a prenderci. Fortunatamente quella notte c'era la luna piena e Ansel aspettò che fosse alta nel cielo, finché la sua luce fredda non filtrata verso gli alberi. Dammi la mano adesso, vedrai che riusciremo a tornare a casa. I sassolini bianchi, illuminati dalla luna, spiccavano nel buio e, seguendoli, ritrovarono la strada. Senza svegliare il padre e la matrigna cattiva, entrarono in casa da una finestra rimasta semi aperta e si infilarono a letto stanchi e infreddoliti, ma di nuovo tranquilli. Il giorno dopo, la matrigna, quando si accorse del loro ritorno, scoppiò di rabbia, ma non poteva farlo vedere i due ragazzi e si rinchiuse nella sua camera con il marito, litigando furiosamente e rimproverandolo di non aver eseguito bene i suoi ordini. Il padre, debole di carattere, protestava, combattuto com'era fra la vergogna che provava per quello che aveva fatto e la paura di disobbedire alla moglie crudele. La matrigna per tutto il giorno tenne Ansel e Gretel chiusi a loro stanza. Un po' d'acqua e un tosto di pane secco furono tutto ciò che ebbero per cena i due bambini. Durante la notte marito e moglie continuarono a litigare e all'alba il padre apri la porta i due ragazzi, ordinando loro di seguirlo nel bosco. Ansel non aveva mangiato e, quando si inoltrò nel bosco, non trovò di meglio che lasciare dietro di sé una traccia del percorso seminando le briciole del suo pesto di pane. Ma non aveva fatto i conti con la fame degli uccelli della foresta che, accortisi di quanto faceva il bambino, si misero a seguirlo saltellando e svolastando e ben presto mangiarono tutte le briciole cadute. Ancora una volta il taglialegno si allontanò con una scusa, lasciando solo i due ragazzi. Ansel tranquillizzò Gretel sussurrando «Ho lasciato una traccia dietro di noi, come l'altra volta!» Ma quando la notte calò e tornarono indietro, si accorsero con terrore che le briciole non c'erano più. «Ho paura!» piangeva Gretel disperata. «Ho fame, ho freddo e voglio tornare a casa!» «Non avere paura, ci sono qui io a proteggerti!» cercava di consolarla Ansel, tremando però anche lui nel vedere ombre paurose e occhi minacciosi nel buio intorno a loro. I due fratellini rimasero tutta la notte ai piedi di un grosso albero, abbracciati per riscaldarsi. Quando spuntò l'alba, cominciarono a vagare nel bosco, cercando un sentiero, ma poco a poco la loro speranza svanì. Si erano persi. Nonostante ciò, continuarono a camminare, finché, tutto a un tratto, in mezzo a una piccola radura, si trovarono davanti a una straordinaria casetta. «Ma questo è cioccolato!» disse Ansel staccando un pezzo di intonaco dal muro. «E questo è zucchero filato!» esclamò Gretel, assaggiandone un altro pezzetto. I due bambini, affamati, si misero a mangiare pesti di dolce che si staccavano dalla casa. «Com'è buono!» diceva a bocca piena Gretel, che non aveva mai provato in vita sua ad assaggiare tante ghiottonerie. «Non ci muoveremo mai più di qui!» rispose Ansel, divorando un pezzo di torrone. Stavano per prendere un po' di biscotto dalla porta, quando questa, senza far rumore, si aprì. «Guarda, guarda come sono golosi questi bambini!» si affacciò a dire una vecchietta dallo sguardo perfido. «Entrate, entrate senza paura!» continuò la vecchietta. Purtroppo, per Ansel e Gretel, la casa di zucchero era di una strega malvagia, che se ne serviva per attirare piccole vittime innocenti. Ansel e Gretel erano proprio capitati in un brutto posto. «Sei magrolino ed hai nutrito!» disse la vecchia, serrando il catenaccio della gabbia in cui aveva rinchiuso Ansel. «Ti ingrasserò per bene e poi ti mangerò!» Poi si rivolse a Gretel e la minacciò. «E tu mi servirai nelle faccende di casa! Poi mangerò anche te!» Ma la vecchia fortunatamente ci vedeva poco e Gretel unse col burro i suoi occhiali perché ci vedesse ancora meno. «Forza, fammi sentire il tuo ritino!» chiedeva ogni giorno la vecchia ad Ansel attraverso le sbarre della gabbia per vedere se era ingrassato. Ma questi si era fatto dare dalla sorella uno siccino di pollo e quando la strega si avvicinava porgeva quello invece del dito. La vecchia brontolava «Sei ancora troppo magro! Ma quando ingrasserai?» finché un giorno si staccò di aspettare. «Prepara il forno!» ordinò a Gretel irrompendo nella cucina come una furia. «Oggi faremo un bel arrosto di bambino!» Dopo un po', la strega impaziente e affamata continuò. «Va a vedere se il forno è abbastanza caldo!» Gretel tornò piegnucolando. «Non sono capace di sentire quando è caldo!» La strega è pronto. Ma mentre la vecchia, affacciata allo sportello, controllava se il forno era caldo, Gretel con tutta la forza spinse dentro e chiuse svelta lo sportello di ferro. Finalmente la strega aveva avuto ciò che da tempo si meritava. Gretel corse subito a liberare il fratello e insieme tornarono al forno per assicurarsi che la porta fosse sempre chiusa. Anzi, per essere più sicuri, aggiunsero al chiavistello un grosso lucchetto. Poi rimasero diversi giorni a mangiare piano piano un po' di casetta, finché, rovistando fra le cose della strega, trovarono dentro un grosso uovo di cioccolato, un cofanetto pieno di monete d'oro. «Ormai la strega non tornerà più e questo tesoro lo portiamo via con noi!» disse Ansel. Prepararono quindi un grosso cesto pieno di provviste e tornarono nel bosco per cercare la via di casa. Questa volta furono più fortunati e al secondo giorno videro venire loro incontro, dalla casa ritrovata, il padre in lacrime. «La vostra matrigna è morta, tornate con me, figli miei!» I due bambini lo abbracciarono. «Prometti che non ci lascerei mai più, mai più!» diceva Gretel con le braccia intorno al collo del padre. Ansel aprì il cofanetto. «Guarda, papà, siamo ricchi, non dovrei più tagliare la legna!» Ed allora vissero felici e contenti.